Amministratori pubblici, dirigenti scolastici, progettisti e rappresentanti delle imprese che vi hanno lavorato, ma soprattutto i bambini, sono stati protagonisti della cerimonia di inaugurazione della nuova scuola d'infanzia di Via Adanegri, aperta già dal mese di settembre. Prima della benedizione di Don Franco Corazza, è stato sottoposto l'accento sull'importanza che la nuova scuola riveste per il quartiere di Villanova e dopo gli interventi delle autorità è cominciata la festa culminata con la recita dei bambini. La scuola è stata realizzata utilizzando materiali e soluzioni architettoniche a basso impatto ambientale ed è sviluppata in cinque corpi fabbrica a piano terra, su una superficie coperta di circa 1700 metri quadri. Ospita 117 bambini in cinque sezioni, quattro per bambini da 3 a 6 anni e una per i bimbi più piccoli al di sotto dei 3 anni. Sale didattiche con ampie vetrate, servizi a misura di bambini e due aree giochi esterne caratterizzano le scelte progettuali finalizzate a sostenere un preciso progetto educativo e pedagogico, pensato e strutturato per rispondere all'organizzazione diversificata dell'attività. Il sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Ecco, abbiamo completato questa parte della città, abbiamo dato un segno tangibile che quell'impegno che noi volevamo avere verso la scuola, verso i bambini, che sono l'energia più importante per noi per affrontare la crisi, beh, tutto quello che abbiamo detto l'abbiamo anche fatto. Quindi oggi è una grande festa, tanta gente, siamo vicini a Natale, è il modo migliore per farsi gli auguri e per stare tutti insieme proprio per festeggiare un momento così positivo.